Diciamo che il risultato più o meno è quello atteso, ancora non è finita, speriamo di recuperare ancora un pochino, quindi bene o male siamo in linea con quelle che erano le aspettative. Sulla differenza Cipriano-Festa vorrei sentire anche D'Agostino però. La differenza credo sia nei fatti perché come diceva Nando già cinque anni fa doveva essere lui il candidato poi dopo si è aspettato per Foti, probabilmente per i motivi che diceva prima il direttore perché c'è stato evidentemente un appoggio diverso alle politiche e quindi è normale che ci sia stato poi questo raffreddamento da parte del PD. La differenza sostanziale è che io credo che sono tutti e due degli ottimi candidati ma chi ha fatto un percorso credo più giusto che possa in qualche modo rappresentare questa città credo che sia più indicato Festa per la sua, fosse altro per il suo trascorso e per l'assiduo frequentemente del Comune per quello che ha fatto in questi anni perché comunque è uno che conosce molto bene la macchina amministrativa oltre benissimo il territorio quindi questo credo che sia uno dei punti di forza, di festa che poi sicuramente la città di Avellino ne derrà conto al ballottaggio.